buongiorno da veganisimplicity.it qui ho preparato una vellutata di barbabietola rossa fresca lenticchie sia giganti che piccoline e un dado vegetale fatto in casa il tutto grazie all'utilizzo del robot moulinex companion ho messo poca acqua all'incirca due bicchieri e poi la barbabietola l'ho messa già tritata con con l'acqua quindi un totale di 5 bicchieri d'acqua un bel piatto molto proteico e nutriente possiamo anche chiamarlo ragù vegano